Ciao a tutti amici di Avora Magazine In questo video presentiamo Documents 5 un'app che consente di visualizzare documenti, video, ascoltare file audio tramite il nostro dispositivo iOS In aggiunta permette anche la modifica di alcuni di questi come ad esempio i semplici file di testo Questa è la pagina principale e da qui abbiamo accesso ai documenti che abbiamo caricato sul nostro dispositivo oppure che abbiamo sincronizzato con Dropbox ai documenti che abbiamo in rete per esempio su OneDrive, su Dropbox come abbiamo detto prima Google Drive e tantissimi altri servizi di cloud poi abbiamo accesso a un browser che ci consente la navigazione in internet e qui abbiamo una lista di software aggiuntivi che ci consentono di completare l'offerta di quest'app software che ci consentono per esempio di commentare e modificare i file PDF di fare le scansioni di documenti ricevute in alto a sinistra nell'ingranaggio troviamo le opzioni tra le generali abbiamo la possibilità di bloccare con il codice e proteggere i dati di iOS abilitando la crittografia ed attivare l'indicizzazione nel caso avessimo tanti documenti in memoria questa ci aiuterebbe poi nella ricerca wifi drive ci consente di connettere il pc all'ipad o comunque al dispositivo riferendoci direttamente a questa applicazione e caricando i documenti che ci interessano la sincronizzazione poi possiamo abilitare o disabilitare il browser vista ci permette di stabilire se vogliamo riprendere la visualizzazione di un contenuto moltipediale dal punto in cui l'abbiamo interrotto PDF possiamo utilizzare il lettore di iOS oppure un altro per aprire PDF file manager poi ovviamente la voce di supporto la licenza e le indicazioni legali vi faccio vedere l'apertura di qualche documento questo è un visualizzatore il vantaggio vero di quest'app rispetto a tante altre è quella di riunire in una sola interfaccia i programmi che ci servono per visualizzare documenti di vario tipo per esempio possiamo provare ad aprire Bluegrass che è un file audio e riprende esattamente dove l'abbiamo interrotto l'ultima volta dopodiché torniamo indietro e abbiamo un file immagine la mannalisa possiamo anche gestirli cioè possiamo condividerli con qualcuno possiamo inviarli ad un'altra applicazione oppure eliminarli questi file così come questo è un file di testo una citazione dell'inferno di Dante della Divina Commedia e questo può essere anche modificato vedete dopodiché vi apro questo è un file un po' più complesso la presentazione in realtà di Documents 5 e vi apro anche un file Excel come vedete la visualizzazione è molto rapida e fedele all'originale l'unico problema ovviamente è che non c'è la possibilità di modificare i file per cui possiamo saltare da un foglio di calcolo all'altro senza problemi anzi in modo molto molto rapido però non possiamo modificarli come vi dicevo è molto utile perché consente di riunire in una sola app e in una sola interfaccia tutte quelle applicazioni che scarichiamo di volta in volta per visualizzare un contenuto per cui lo utilizzo per ridurre al minimo le installazioni e per poter gestire tutto da un'unica postazione per questa video recensione è tutto ci rivediamo alla prossima